Senti, gioia mia, come nasci, Stella? Ah, già, come nascio io? Sì. Nascio come nasci gli altri, no? Eh, no, vuol dire che nasce bene, sai, nasce benissimo. È una grandissima famiglia brasiliana. Sì, eravamo 14 figli. Oh, che diversamente! No, scherza, scherza, era una famiglia che aveva un sacco di fazzende. Fazzende? Sì, sì. Sì, ognuno si fa la fazzende sua, no? Io mi faccio la fazzende mia e tu ti fai la fazzende due. Senti, adesso da dove vieni? Da Copacabana? Da dove? Copacabana. Copacabana? Che campacabana? Io vengo da Cayanello. Cayanello, dov'è? Cayanello dov'è? Teano, Frosinone? Araniseo? Oh, Cayanello! Cayenna, hello! Cayenna, bagno penale, che divertente! Che bagno penale, Cayanello! Come turista? E vorrei qualche cosa da masticare? Ah, poverino, ha fame! Senti, ecco, spazzola, ha vol fatto l'arte? No, spazzola, fame! Appetito! Senti, andiamogli a preparare due vitamine forseline! Sì, d'altra idea! Sì, sì, di due vitamine! Che forse vini, che forse vini! Ragazzi, ho deciso, io resto! Oh! Pot'è di amoroso quel dito! Ma mi dici a che servono queste vitamine? Servono al posto del pranzo perché qui non esci a mangiare. Ah, sì, non esci a mangiare, perché qui non si mangia, si salta. Ma io me ne vado. Ma tu? Ma io me ne vado! Un momento dove vuole andare! Vado a osservare dove sta la serva. A proposito, dove sta la serva? Ho capito, questo è un ambiente troppo raffinato per lei. Ma sì? E allora perché mi ci avete portato? Perché lei serve a noi e noi serviamo a lei. Ma sì? Ma la serva non serve mai, vero? Ma no, cosa c'entra la serva? Dove sta la serva? C'entra la serva. La serva è atomica, la serva è cagliarda. Guardi che la serva è consigliabile. Viene di smì. Ma cos'è? È viva dei girardeghi? Sono girardeghi, è il bar portatile, no? Questo qui è il bar portatile. Tu dai il caffè alla crociccetti. Buon caffè. Ti piace i caffè? Tanto. Ah, ma che madrug. Ciriola? Cicci? Ma chi l'ha fatto questo caffè? L'ho fatto io, perché non è buono. È un'asiofeca. Una chi? Una asiofeca! Io proprio i asiofeca no, è una schifissa. Divertente. Senti, Nani, tu che hai viaggiato tanto, che hai un sacco di cose. Dimmi, cala. Dimmi un po' i tuoi gusti, informami, deve essere così interessante. Voi sapete i miei gusti? Sì, cosa ti piace, Nani? Sì, cosa ti piace? Dai, ti prego. No, non lo posso dire. Sì, informaci. Cos'è piace a me? Sì. No, lasciamo perdere. No, 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 lo devi dire, assolutamente. Lo vogliono proprio sapere? Sì. Sì? Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Lo dico, ma io declino, eh? Dillo. A me mi piace la serba. Ah, che simpatico! Mi piace la serba. Ma se ti dico a me la serba mi piace. Sì, divertivo, so. A me la serba mi piace. Oh, senza. Oh, guarda. Sì. Aiuto! Che paura! Oh, 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 oh. Ha avuto paura? E come no? E di che? E come di che? Oh. Di questo quadro? Eh già. Ma è un Picasso. Cos'è questo? Siete un'imitazione di Picasso. Questo qui? Beh, oui. Imitazione di Picasso? Oui. Picasso? Picasso. Questo qui? A me, naturalmente. Picasso? E chi l'ha fatto? Io? Ma no. Moi. Lei? Oui, moi. Veramont? Veramont vuole dire. Va bene, lasci fare. Veramont l'ha fatto lei? Parola d'onore? Sì, sì, sì. Mi dia la mano. Veramente l'ha fatto lei? Certamente. Bravo! La scienza va premiata. Ora tutti a me. Una sedia e un tovagliolo. Venga qui. Che caro. Lei l'ha fatto. Sì. Dato una sedia. Su. Su. Cos'è? C'è qua. C'è qua. Il tovagliolo, per cortesia. Eccolo qua. Così va bene? Grazie. Benissimo. Sai, io sono generoso, magnanico. Grazie. A me mi piace premiare il talento, ecco. Mi dia le marine. Mi tengo la testa così. E no, fermo. Ecco, mi la tengo così. Forte. Forte, forte, forte. Mi dia la marina sua? Sì. Ecco, si copre quest'occhio qui. Così. Ci vede da quest'occhio? No. Bravo. Lei con il chimice e pomice mi fa la cortesia e mi allarga quest'occhio. Fermo, eh? Lei vede qua? Sì. Vede bene? Sì, sì. Allora fermo, eh? Fisso, eh? Fisso qui, eh? Ecco qua. Troppo divertente cos'è! Parignosa! Ciao, ciao, ciao! No, 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 no. No, 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 no.